Continua il rebus sul caso della scomparsa di Mimi Manzo dopo un anno e mezzo da quella sera, l'8 gennaio 2021, nuovi sviluppi come quello del sequestro dell'auto che la figlia di Manzo ha noleggiato per due giorni e utilizzata anche per le prime ricerche dello scomparso. Noleggiata per fare acquisti il giorno del suo compleanno, la versione data agli inquirenti, guidata da Loredana Scannelli, amica di Romina, visto che la figlia di Mimi non ha la patente. La stessa auto con cui Loredana avrebbe investito la stessa sera della scomparsa di Mimi e quindi la sera della festa di Romina, un cane, il corpo però mai ritrovato. Il SUV, un T-Roc noleggiato presso un'azienda di piano d'ardine, viene passato al setaccio. Stamane ha ascoltato il fratello di Romina Manzo, Francesco, come persona informata dei fatti. Il procuratore, Domenico Airoma e il PM che seguono le indagini vogliono approfondire una serie di aspetti. Ricordiamo che sono tre gli indagati dalla procura, la figlia di Mimi Manzo, Romina, con la pesante accusa di sequestro di persona, con l'amica Loredana, concorso in sequestro. L'ultimo a finire nel registro degli inquirenti, l'ex fidanzato di Loredana, Alfonso Russo, accusato di false dichiarazioni ai PM e favoreggiamento. Domenico Manzo è stato avvistato l'ultima volta verso le ore 22 dell'8 gennaio 2021 dalle telecamere di un ristorante di Prata, mentre si incamminava verso una vecchia stazione ferroviaria in disuso, poco distante dalla sua abitazione, dove quella sera si stava svolgendo la festa di compleanno della figlia, ventunenne, alla presenza di alcuni amici. Secondo le prime testimonianze, il 69enne uscì di casa per fumare una sigaretta, poi di lui non si seppe più nulla.